Sono partito prendendo spunto dalla bolla di edizione di Papa Francesco, di Seicordio Vultus, e in particolare ho preso spunto anche dalla lettera di Vescovi Umbri orientata ai fedeli di tutta l'Umbria. L'obiettivo era quello di far emergere due entità, due sorgenti della fede, che sono a Polsiungola, a Santa Maria degli Angeli e a Colle Valenza, Madre Speranza, la missione di Corte di Madre Speranza. L'obiettivo del libro è anche quello di raccogliere fondi per sostenere le opere in terra santa.